Alla fine il pareggio non accontenta nessuno, il Montone rallenta la sua corsa in zona play-off e viene superato dalla Pievese, mentre il Castel del Piano che in due minuti alla fine del primo tempo aveva ribaltato il risultato non riesce a ridurre la distanza proprio dai play-off. Il Castel del Piano subito pericoloso all'ottavo quando una incomprensione tra Tassi e Boriosi regalava a De Pretis una ghiotto occasione da gol con la palla che veniva comunque spedita in calcio d'angolo. L'inizio gara vedeva il Castel del Piano giocare sistematicamente nella metà campo del Montone, la squadra di Grilli si guadagnava anche due calci d'angolo senza esito. Nel Montone l'estremo difensore Pastore era costretto a dare forfè pochi minuti prima dell'inizio al suo posto in campo Nicola Tassi, assenti anche Carnevali squalificato e Missaia infortunato, prossimo comunque al rientro che avverrà presumibilmente dopo la pausa di domenica prossima. Un assente anche nel Castel del Piano, si tratta di Broccatelli bloccato alla schiena. Al quarto d'ora bella discesa sulla fascia sinistra di Proietti sul cross del quale era bravo Boriosi ad intervenire per deviare la palla. Ancora in calcio d'angolo Montone che non riusciva ad uscire dalla propria metà campo e sempre in ritardo sulle seconde palle. Ma al ventiduesimo nella prima azione offensiva la formazione di casa andava vicinissima al vantaggio con un gran tiro di Ubaldi che Taddei non riusciva a controllare, a manuali però non riusciva il tap-in e l'azione sfumava. Al venticinquesimo un'altra bella azione del Castel del Piano portava al tiro Menichini, conclusione alta. Quindi al ventisettesimo pericolosa punizione di Isenai di poco alta sopra la traversa della porta difesa da Tassi. Alla mezz'ora Montone in vantaggio, Ubaldi apriva per Landi che si preparava e faceva partire un traversone proprio davanti all'estremo difensore ospite Taddei con manuali che spingeva la palla in rete con il petto. Al trentasettesimo Jacopo Mancinelli si procurava e cacciava una punizione da buona posizione, palla fuori con il Montone che respirava. Poi in due minuti la squadra ospite ribaltava il risultato al quarantaduesimo lungo lancio dalle retrovie con la spizzicata di Menichini che era un assist perfetto per Depretis che con un gran tiro lasciava di gesso Tassi. Poi due minuti dopo al termine di un'azione convulsa nella metà campo del Montone ancora Depretis aveva la palla buona e non sbagliava ribaltando il risultato. La ripresa si apriva con il Montone che cercava di fare la partita al dodicesimo calcio di punizione di Della Rina e bella risposta in angolo di Taddei. Poi nell'azione successiva Menichini alzava troppo la mira con la palla che terminava alta sopra la traversa. Al diciannovesimo il Montone pareggiava con questo bellissimo colpo di testa di manuali su cross di Della Rina. Poi la partita diventava elettrica. Al trentaquattresimo Sisani metteva in mezzo per il colpo di testa in tuffo di Menichini. Bel gesto tecnico, bravo Tassi a deviare in angolo. Al trentaseiesimo palo di Basri direttamente su calcio d'angolo. Al quarantesimo punizione di Fodaroni che Taddei alzava in angolo. Il finale era del Montone, si provava Landi con Talarico che si immolava. La squadra di casa poi rischiava anche di capitolare però con Mercus che non sfruttava l'occasione propizza. Così la gara terminava 2-2. Mister Leonardo Tempesta, primo tempo un Montone così così, poi meglio la ripresa. Sì, primo tempo una parte un po' bruttina, insomma nel senso che tante palle lunghe, tant'agonismo però alla fine credo che il punto sia giusto per tutti. Quindi ci prendiamo la sosta e ci prepariamo per la prossima. Mister Luca Grilli, alla fine del primo tempo credevi di riportare a casa tre punti? Anche alla fine, onestamente sì, vabbè, al primo tempo ci siamo trovati sotto 1-0 paradossalmente con forse neanche in tiro da parte del Montone. Abbiamo giocato veramente bene, abbiamo fatto una mezz'ora dentro la metà campo del Montone creando parecchio. però sono partite che se te nel primo tempo crei quella superiorità, quel gioco offensivo e non fai in gollo 2 purtroppo dopo ti trovi sotto. Venire a Montone contro una squadra forte come il Montone e giocare a viso aperto, giocare per riportare la partita come abbiamo fatto noi è di buon auspicio. Adesso ci prepariamo stasettimana per la finale e prendiamo questo punto in maniera positiva da una buona prestazione che abbiamo fatto.